Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello, faccio questi video perché sono un appassionato di moto. Se anche tu come me lo sei, iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno. Oggi vi parlo di TGM 125 del 1977 perché mi piace l'idea di parlare delle moto dalla regolarità degli anni 70 e 80 che ci hanno accompagnato nella nostra passione per il mondo delle due ruote. La TGM è il classico esempio di azienda nata e cresciuta sull'onda del fenomeno della regolarità degli anni 70 che ha cessato la propria attività nel momento stesso in cui la moda delle ruote artigliate è venuta meno fra i sedicenni. Non solo l'avventura della TGM nasce quasi per caso dalla passione di due amici, Parmense, Trezzi e Marchesini, da cui appunto il nome TGM, che nel 1973 avevano costruito nei ritagli di tempo un 50 da cross. Poi quello che all'inizio era solo un gioco diventa un lavoro a tempo pieno e la TGM inizia a produrre moto da cross. Oltre al cinquantino viene realizzata una 125 con il motore della Sachs con cui la piccola azienda di Parma si crea una buona reputazione fra gli addetti ai lavori. Quando poi la Sachs rimane in un motore, non rimane a passo con i tempi, rimane indietro Trezzi e Marchesini sono i primi a passare al motore Hero, l'italiano Hero, con cui equipaggiano alla fine del 75 e al loro 125 da cross a cui affianco una versione da regolarità. In realtà solo due le versioni, ma vediamo dopo. In poco più di tre anni la TGM diventa una piccola realtà del mercato motociclistico nazionale grazie anche alla sua diffusione, cioè al fatto che avesse una efficiente rete di distribuzione. Nel listino del 1977, stavo dicendo, ci sono due versioni del modello da regolarità, una più tranquilla e una da competizione. Sostanzialmente sono molto simili, ma si differenziano per l'impianto di scarico e per le sovrastrutture, con la competizione dotata di fianchetti portanumero e mascherina attorno al faro. Quindi direi a questo punto di vedere questa versione, che è quella invece più tranquilla, perché appunto non ci sono i fianchetti portanumero, quindi dei fianchetti bianchi, come potete vedere, senza la tabella portanumero, che appunto serviva per le gare, per le competizioni. Passiamo quindi al motore, che è il monocilindrico della Igo, abbiamo detto, con un esagio percorsa di 54 x 54 mm, una cilindrata di 123,6 cm3, che trezzi marchesini rivisitano nel cilindro e nell'impianto di scarico. Una potenza massima di 22,5 cavalli a 9.600 giri al minuto, per il modello più tranquillo, 23,5 cavalli a 10.000 giri al minuto. Qui non c'è questa grande differenza. Con il modello della competizione, che ha come alimentazione il carburatore della Dell'Otto denominato PHBE32BS, col diffusore da 32 mm. L'imbiellaggio è robusto, anche grazie ai cuscinetti di banco e rullini ingabbiati, il pistone è poi un solo segmento, il kart del Liro è tagliato verticalmente, queste sono le caratteristiche tecniche che lo rendono, lo hanno reso anche famoso come motore per le sue qualità. Il cambio può essere a porto e gli alberi che lavorano su speciali cuscinetti a sfera. Passiamo al telaio che è formato da un originale doppia culla, con una trave superiore rettangolare e compreso poi il forcellone pesa 13 kg. Per quanto riguarda il reparto sospensione del TGLM, si differenzia dalle concorrenti per la scelta all'anteriore della forcella ceriani da 35 mm di diametro degli steli e al posteriore invece vediamo i noti cortecosso a gas, infatti nella parte superiore si nota appunto il contenitore del gas ed sono regolabili su cinque posizioni. Il peso a vuoto rispettivamente di 99 e 96 kg nelle due versioni. Il telaio poi è un doppia culla chiuso in tubi d'acciaio che ha il montante superiore rettangolare che va poi a fasciare la zona del canotto di sterzo come sulle PUC, anche sulle PUC Frigerio, cioè il fatto che fosse poi molto robusto è una delle sue caratteristiche in questa zona che è la più sollecitata. Anche il forcellone sezione rettangolare proprio per aumentare la rigidità del sistema. La sella è alta a 860 mm da terra quindi non altissima e le sospensioni sono formate all'anteriore, abbiamo già detto, da 35 mm. Questo ve l'ho già detto. Poi passiamo all'impianto frenante dove abbiamo all'anteriore e al posteriore i tamburi conici famosi della Grimeca con diametro da 140 mm. Le ruote rigorosamente a raggi, hanno i cerchi in acciaio, sono da 21 pollici all'anteriore, 18 il posteriore, velocità massima cronometate di 118,420 km orari, peso vuoto di 105 kg. Se ti è piaciuto il video metti un like se non ti è piaciuto, metti dislike ma iscriviti al canale e attiva la campanella per due motivi, primo è gratis, non ti costa nulla ma contribuisci alla diffusione del canale quindi ti ringrazio, in secondo luogo potrai sempre essere aggiornata perché pubblico un video al giorno. Qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi. Ciao, buona serata.